Ciao, nuovo video! E' un po' diverso dal solito, perché... Oggi abbiamo delle domandine che ci siamo fatti a noi stessi. Fatti da soli. Sì, io mi sono fatto una domanda a me stessa. E' bello che non sappiamo neanche risponderci, però ci proveremo. E' per far sì che il nostro pubblico ci conosca. Wow. Sì, sono cagate, ma va bene. Sì, infatti... Vabbè, partiamo, perché sono 22 domande. Proprio buttateli così. Vediamo... Fino a quando sono arrivato io erano 10. E alla domanda numero 1 abbiamo... Come ti chiami? E' vero, non sanno come ci chiami. Sì che lo sanno, l'ho prenduto in un primo video. E' vero. Comunque io sono Jessica. Io sono Arnold. Seconda domanda. Seconda. Quanti anni hai? Vai tu. No, dai, rideranno delle mie età. Muoviti! 22. 18. 19 quest'anno e tu 23. 23 quest'anno, io non dico niente. 3. Quando compi gli anni? Io ho 12 luglio, te non lo so. Lo sai? 18 ottobre. Poi, terza domanda. Terza? Ancora. Quarta domanda. Quarta domanda. Qual è il tuo colore preferito? Il mio, il rosso, il nero. Un colore. Verde. Lo sapevo! Il mio è rosa, che fantasia eh. Quinta domanda. Quale scuola o lavoro frequenti o fai? Preferisco lavorare. Anch'io, ma visto che andiamo a scuola. Ma scuola? Purtroppo. Andiamo al liceo, no, al liceo. Al liceo. Sì, vabbè, superiori. Andiamo alle superiori. Alla fantastica scuola dono Milani. Al quinto anno. Maturità, ragazzi, maturità. Sei, cosa sogni di fare? Cosa sogno di fare? Sì. A volte non sogno neanche. Devi rispondere. Ah, ok. E sogno di diventare una persona molto importante per questo universo. E nella realtà? Già, per, già sognare di avere un lavoro è tanto e quindi... Vabbè, io invece sogno di fare la scrittrice, sì. È il mio sogno, un nuovo sogno. Chi lo sa. Settima domanda. Qual è la tua passione? La mia sono videogiochi, fumetti, computer. Una. Computer, perché tutto posso fare sul computer. Sapevo. La mia passione più grande, forse, è scrivere. Sì. Rispetto alle altre cose, sì. Scriverete. Prossima domanda. Siamo arrivati all'ottava. Sì. Settima in realtà. No, è l'ottava. Ottava. Nonna. L'ottava! Ok, fa niente. È l'ottava, abbiamo fatto la settima adesso. Quali video su YouTube ti interessano di più? Tutti quelli dove ci sono cagate da guardare. Non cagate shorte, ma mongolate, tipo, non so, uno che cade di testa e l'altro ride. Cosa è così. Oppure anche video divertenti, tipo Paperissima. Oppure videogame, gameplay, oppure trailer dei film della Marvel, ovviamente. Così così. Io le recensioni, sia di libri che di trucchi, ma con le recensioni strette, non troppo lunghe, che poi mi rompo. Quindi mi piacciono quelle di Clio, per esempio, perché durano qualche minuto e basta. Magari ci vede la Clio. Ciao Clio! Nonna domanda. Qual è il tuo attore e attrice preferito? Preferito. Allora, direi... Rispondo io così lo so già. Vai. Jennifer Lawrence, ormai l'ho scoperta, mi piace da morire, l'ho guardato, ormai sto guardando i suoi film, li sto ricercando per riguardarmeli. Allora, se dovessi scegliere un attore preferito, purtroppo non c'è perché Hulk l'hanno fatto in tre. Quindi c'erano Wolverine, quello che ha fatto Wolverine. E come si chiama? E New, diciamo che... Ok, Wolverine! Qua, 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 clac, li metto il nome del mio attore preferito perché non so come si chiama. Fantastico! Decima domanda. Il tuo film preferito? The Avengers. Così, punto. Secco, preciso. Io ne ho tanti, però se devo essere sincera non è proprio un film, è una serie. Merlino! Sì, mi piace troppo e se è divertente... Vabbè, è conosciuto come Merlin qua in Italia, comunque vabbè, è divertente e mi piace tanto. Grande. Poi fantasy, quindi... Undicesima domanda. La tua canzone preferita? Vabbè, tutti quelli dei seriesi. Generalmente, boh, vado su... Non lo so... Vabbè, la canzone del periodo faccio prima perché sennò... È quella di Katy Perry. Dark Horse. Ah, Cavalli Neri. No, Scuri. Cavallo. Cavallo Scuro. Vabbè, con... Dark Horse. Farmi... Non mi interessa. Ecco, questa non la so. Dodicesima domanda. Cantante preferito? Lady Gaga, se dovessi dirne una. Perché mi piacciono le sue canzoni, ma... Il vocalista dei CDC. Che fantasia! Non so cosa rispondere a questa. Tredicesima. Perché fate video su YouTube? Perché non cazzo fare. No, in realtà ne abbiamo anche troppe cose da fare. Ma è più per divertirci. No, io non è per divertirmi. Basta per divertirci. Cos'altro vogliamo fare? Ci divertiamo. Sì, dai. Punto. Quattordicesima. Sei fidanzato barra fidanzata. Non lo saprai tu? Io sì. Anch'io. Così? Chi è su? Sono di sopra io. Quindicesima domanda. Hai qualche animale per casa? Mio fratello. No, purtroppo no. Purtroppo. Vorrei tanto un cagnolino. Io ce l'avevo. Anch'io. Rottweiler. Però niente. Adesso niente. Sedicesima domanda. Libri o fumetti? Fumetti. Libri. Si vede, no? Assolutamente libri. Ti catapultano in un mondo tutto loro. I fumetti... I fumetti cosa? No, no, io non ho attaccato ai tuoi libri. Perché tu attacchi subito i miei fumetti? Perché sono... Mediocri. Cosa? Non trasmettono emozioni. No, no, basta ragazzi. Con questo video finiamo tutta la serie. Nel secondo video abbiamo chiuso il canale. Basta, ciao. Oh, basta. Poi, diciassettesima domanda. La tua stagione preferita? Estate. Inverno. Freddo e caldo. Io il freddo lo odio. Tremare, doversi coprire 20.000 strati. Io il caldo l'odio. Sudi come un maialino. Sono tu perché sei riconverto di ciccia. Hai detto ciccia. Ma fa niente. È vero. È vero. Purtroppo è vero. Niente che mi fa... Però forse sì, le capesante. Le capesante gratinate. Come le hai fatto a mamma sono buonissime. Sì, al forno sono buonissime. Io la doro. Dicianovesima domanda. Qual è stata la situazione più imbarazzante della tua vita? Ah, io ce ne ho... Più di... Quante ne immagini? Ce ne ho una. Vabbè, io parlavo male di una persona. Poi mi sono girata e me la sono ritrovata dietro. Però è imbarazzante. Vabbè, che sono cascata davanti a tutti. Ah. Non so. Imbarazzante. Io, tipo, tre volte avere la ciccia sulla testa. Io le cicche me le appiccicavo da sola. Cosa vuoi? Cose da bambini. Sì, non lo so. La situazione è più imbarazzante. Prossima domanda. Ventesima domanda. Cosa cambieresti della tua vita? Io niente. Non perché sia perfetta, ma perché va bene con le sue bruttezze. Imperfezioni. Perché poi le cose più belle le valorezzi di più. È vero. Secondo me. Però niente di così traumatico da dover cancellare per sempre. Io magari cercherò di non fare le liste, sì, ma le cose che ho fatto per due o tre volte. Bene. Ventunesima domanda. Cosa faresti se avresti tre desideri? Solo tre? Sì, solo tre. Allora, i soldi... Sono scontati. Se chiedo quelli hai già tutto. Infatti, è già scontato. L'amore ce l'ho già. Cosa altro mi serve? Io lo so cosa c'è. Trovare vita su un altro pianeta. Andare su un altro universo. E... 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 Basta. Terzo desiderio lo lascio a lei. È solo uno, me le lasci? Cioè, non ho capito. È così nei quattro. Ma me ne basta uno. Vabbè, no, scherzo. No, io se proprio cose materiali al cento per cento, vorrei la fornitura di libri a vita, tipo, vorrei abitare in una biblioteca. Mi piacerebbe quello sì. Oppure tutti i trucchi del mondo. Ficcata. Eh, se hai già tutti... Ecco, il mio traccio di sedere ho tutti i soldi del mondo. Basta. Così ho tutto. Vabbè, mi fermo a due perché non so bene. Ti compro la biblioteca io. Va bene. Ultima domanda. Il regalo più bello ricevuto. Ok. Vai tu. Ah, io devo iniziare. Ok. Il regalo più bello è stato uno dei sei regali. Al mio compleanno. Una maglietta degli Avengers. Il mio regalo più bello... Sei tu. Dai, così mi togli. Cioè, il mio regalo... Il mio fa... Così e basta. Esatto. Non va. E per questo te l'ho fatto dire prima. Se no poi tu dicevi anche io. E allora no. No. È vero. Va bene, gacci. Volevo l'amore e l'ho trovato. Basta. L'ho ricevuto. Sono a posto. Per l'eternità. Non mi serve altro. Se il mio regalo sono una cacchina. Ne fianco al tuo. Fa niente. Allora niente. Questo video è finito. Speriamo di avervi divertito. Tinto un po'. Così almeno se non avete un cazzo da fare guardatemi un po' di due volte. Mettete anche un mi piace. Iscrivetevi se volete. Si puoi dai. Qualche commento. E se non vi iscrivetevi mando un cane a uccidervi. Va bene. Se chi è il tuo mio bandera sei finito. Va bene. Allora ci vediamo al prossimo video. Anzi se voi ci vedete. Noi non vi vediamo comunque. Va bene. Ci vediamo. Guarda ti vedo lì. Ti mangia delle patatine. Brava. Brava. Hai finito. Sì. Va bene. Al prossimo video ragazzi. Al prossimo video. Ciao. Ciao.